è un po' difficile da spiegare l'emozione che si prova di fronte a questa persona cioè l'idea che comunque tutta la gente del mondo vada a roma al vaticano per incontrarlo e noi che ce l'abbiamo qui vicino a casa è un onore ecco quindi a livello emotivo è forte un'emozione stupenda proprio grande sto proprio commuovendo veramente e il ha una volontà di essere molto solidaire ci sono persone della strada di tutto il mondo e è veramente molto importante che venivano in questa prison che abbiamo visitato Grazie.